ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi decorazione agenda e decorazione obonici faremo tutto insieme in un unico video la settimana è quella che va dal 3 al 9 di agosto ho deciso di fare la decorazione con il kit di planners anonymous sail and sea quindi utilizzeremo gli washi e gli stickers ho deciso questo mese di prossima settimana di fare la decorazione uguale sia per lo bonici che per l'agenda visto che una decorazione unica farei un tema unico allora io direi di partire con gli washi tape sulla decorazione agenda lidl ciao ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.